Ciao a tutti ragazzi sono Fabio e Razered e oggi vi farò vedere l'unboxing di PS3 Limited Edition di Metal Gear 4. Questa versione è stata rilasciata solamente in Giappone ed è stata rilasciata anche in America ma con un altro tipo di confezione e non ovviamente in iniezione limitata come questa versione qua. Allora si presenta la scatola frontale con il bel faccione di Snake, bello invecchiato, i dettagli della console con il suo joypad, sia la console che i joypad hanno una colorazione differente che poi andremo a vedere in dettaglio, ma è scritto in giapponese e la sigla della console denominata Aguila. Il retro, questa meraviglia, qui potete vedere un'immagine di gioco, tutti i bla 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 i giapponesi, varie scritte solite della PS3, niente di particolare, andiamo a vedere quello che c'è dentro. Bene, apriamo e per ordine vi faccio vedere prima di tutto il contenuto speciale di questa console che è questo cofanetto, dove all'interno troviamo naturalmente il gioco in giapponese e un blu ray disc, un limited edition, se si vede il limited edition bonus disc, adesso andiamo ad aprire, vi farò vedere. Questa è la seconda voce più alto. Andiamo, vediamo dove c'è qui dentro. Qua, con il solito faccio gli snake. Il gioco, che ha una cover diversa rispetto alla nostra italiana, europea. Il retro, al solito gioco, questo è il sigillato. E questo è il blu ray, con questo bellissimo artwork di snake. il retro, con il logo Ujima. All'interno, semplicemente un blu ray disc, che sinceramente devo ancora vedere. un cartoncino. Questo è quello che riguarda, quello che riguarda i due dischi. Via. E ora vediamo la console, con molta calma. e poi vediamo. e diamo fuori. se ce la faccio, se ce la faccio, se ce la faccio, da fattano, e vado a vedere. due sciomini. il video probabilmente non si vede. che è di un verde metallico panno molto bello, come una colorazione particolare con il riflesso della luce cambia questo è il joyter e ora la console qui ci sono vari libretti istruzioni della 1070 pomena ci sono piccari video ma qui ci sono e la console, eccola qua bella bella è una ps3 40gb et voilà la ps3 40gb di metal gear con troppo indizio una equinità c'è, come potete vedere tutto qui il dettaglio con scritto di metal edition non si sa precisamente quante i pezzi siano stati prodotti in questa ps3 ma il vetro nulla di particolare proprio è la colorazione che fa questo oggetto particolare a video credo che proprio non esalti questo colore qua assolutamente però vi assicuro che fa un effetto straordinario questo verde opacco un po' metallico bellissimo beh questo è tutto avete visto com'è una ps3 in edizione limitata di Metal Gear 4 vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato alla prossima ciao